La Juventus perde 2-0 la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League a Madrid contro l'Atletico Madrid. È stata una partita, soprattutto nel secondo tempo, intensissima. Dopo un primo tempo che vede subito la Juventus mettere il suo biglietto da visita con Cristiano Ronaldo che impegna con un saetta su punizione il portiere Oblak, e ancora la Juventus a sfiorare il gol con un colpo di testa di Bonucci che finisce un po' alto, ma era una bella occasione. La risposta dell'Atletico Madrid viene affidata a un tiro di Thomas da lontano, ben fermato dal migliore in campo della Juventus, alla fine risulterà lui, cioè il portiere Scesni. E poi c'è un episodio in aria, De Sciglio tocca un giocatore dell'Atletico Madrid, l'arbitro va a controllare, aveva dato rigore, va a controllare, concede solamente un calcio di punizione. Il calcio di punizione era su Diego Costa. Il calcio di punizione è tirato da Griezmann, ma la palla è ben deviata dal portiere Scesni. Quindi un primo tempo, diciamo così, equilibrato. Juventus attenta a ripartire, Atletico Madrid che viene avanti, avrebbe detto Manzoni adelante ma con Juizio, avanti ma attenzione. Secondo tempo cambia tutto. La Juventus nel secondo tempo fa una fatica tremenda a limitare gli attacchi dell'Atletico Madrid che deborda. Subito al quinto minuto Diego Costa sfrutta un lancio da dietro, non c'è Chiellini, c'è Bonucci che cerca di ostacolarlo. Diego Costa si presenta solo davanti al portiere Scesni che si butta a destra, lui calcia il pallone a sinistra. Il portiere si è buttato a destra, invece lui calcia sulla sinistra del portiere e sarebbe gol. Ma la palla termina molto, molto di molto lontana dal palo. Ma dopo quattro minuti un'altra grande occasione, un'altra bella azione, trova il tiro di Griezmann ed è superbo, superbo l'intervento di Scesni che con le punta, con la falangina, falangetta, riesce a deviare la palla in corner e poi Bonucci allontana. La Juventus però fa fatica, non c'è, continua a retrare il baricentro, c'è un gol di Morata, la rete del vantaggio dunque, ma l'arbitro torna a vedere il VAR e rileva che prima del colpo di testa di Morata ci sia stata una spinta secondo quello che ha visto il signor, l'arbitro tedesco e quindi annulla il gol. Quindi sempre 0-0. Ma poi la rete, la rete di Jimenez che sfrutta una mischia, cade a terra Bonucci ancora toccato sul viso. Questa volta l'arbitro va a vedere ma non rileva nulla di irregolare il vantaggio dunque dell'Atletico Madrid. La reazione della Juventus non c'è, viene avanti ancora l'Atletico Madrid che realizza con Godin la rete del 2-0. Altra mischia, la palla si sposta sulla destra, il tiro toccato anche da Cristiano Ronaldo ma non è certamente autorete perché la palla si stava già infilando. C'è un'occasione anche per la Juventus al minuto 90, un calcio di punizione per fallo di Griezmann. Vede Cristiano Ronaldo intelligentemente perché era molto decentrato appoggiare in area appena fuori dall'area e c'è il tiro di Bernardeschi deviato molto bene da Oblak. La partita dunque finisce 2-0 e dunque la Juventus si giocherà tutto nella parita di ritorno contro una squadra che sappiamo dell'organizzazione difensiva fa la sua forza. Indubbiamente domani ci saranno delle critiche per riguardo la prestazione della Juventus che anche del Piero che ho sentito ovviamente in telecronaca come seconda voce di Massimo Marianella ha fatto fatica a trovare il migliore in campo eccettuato ovviamente il portiere Scesni. È stata una Juventus che soprattutto a centrocampo ha fatto fatica, Piani c'era riduce da un febbrone, è stato messo in campo ma non ha dato il rendimento che ci si aspettava. Quindi una Juventus che deve giocare in maniera totalmente diversa può sfruttare il fatto che non ci sia Thomas e Diego Costa perché ammoniti e squalificati ma indubbiamente sarà un'impresa titanica, un'impresa incredibile per la Juventus battere l'Atletico Madrid. Attenzione però perché è anche una Juventus che nella scorsa stagione 0-3 vinceva 3-0 a Madrid con l'altro Madrid, con il Real Madrid. Quindi impresa tremenda ma la Juventus si sta già concentrando per cercare di ribaltare questo pesantissimo 2-0. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegratti.